Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Chiunque ama i droni ed appassionato di droni sa che ieri DJI ha rilasciato un nuovo drone, un nuovo drone particolare per quanto riguarda il marchio DJI, perché è un CineWoop, il CineWoop Avatar. Questo drone che io non ho, quindi non parlerò di quello che sono le sue prestazioni, di come vola, di come non vola, di come fa i video, di tutte queste cose, perché ovviamente non avendolo testato non mi sembra giusto parlarne, ci sono altri canali che l'hanno fatto, quindi altri youtuber che l'hanno provato e hanno detto le loro opinioni. Quello che voglio analizzare oggi è proprio questo prodotto all'interno del mondo droni DJI, se è un prodotto che ha senso o non ha senso. Allora, sicuramente è un drone inaspettato, nessuno si sarebbe mai aspettato che DJI lanciasse un CineWoop, anzi era molto più atteso sicuramente una versione 249 grammi di lui e in quel caso ragazzi vi assicuro che DJI avrebbe spaccato, probabilmente magari arriverà, ma ad oggi è uscito questo DJI Avatar o Avata, comunque si chiami, comunque quel drone lì, che di suo ha sicuramente l'innovazione per quanto riguarda la tipologia di drone all'interno del mondo DJI, niente di innovativo perché di CineWoop ce n'è così sul mercato, chi mi segue sul canale lo sa io ne ho tre modelli di varie dimensioni, peso dai 249 grammi salendo, quindi sono abbastanza un amante dei CineWoop perché mi piace utilizzarli per fare appunto passaggi in posti stretti, in posti particolari, fare passaggi radenti in certe situazioni, quindi è sicuramente una tipologia di drone che mi piace, però stiamo parlando di droni CineWoop, chiamiamoli così FPV autocostruiti, quindi con determinate caratteristiche per quanto riguarda anche l'utilizzo diciamo sia pre-volo che post-volo che un utilizzo anche proprio dal punto di vista della riparazione in caso di guasti e vi dicendo. Comunque, questo DJI Avata, Avata, Avata e quello che è, ha sicuramente dalla sua il fatto che è pronto al volo, chiunque lo può utilizzare, infatti viene sponsorizzato come drone per principianti, anche se per 1500 euro principiante magari anche no, è un drone sicuramente molto molto costoso ed è questo probabilmente una delle sue pecche principali, nel senso che sicuramente tanta tecnologia, perché abbiamo i nuovi Gaggle versione 2, quindi questi occhiali molto diciamo performanti, leggeri, tutto quello che volete, abbiamo un drone sicuramente con prestazioni e comunque un comparto tecnico sicuramente di ultima generazione, però parliamo sempre di 1500 euro. E appunto per questo motivo ho voluto fare un sondaggio sul mio canale YouTube, ho fatto un posto dove appunto ho chiesto, per capire in quanti sono interessati appunto a questo nuovo CineVup di casa DJI e ho chiesto chi l'avrebbe acquistato, chi l'ha già acquistato o invece a chi non interessa proprio acquistarlo. E ragazzi la percentuale mi ha abbastanza sorpreso, nel senso che ero diciamo consapevole che non mi interessa avrebbe vinto sulle sì lo acquisto o lo acquisterò, ma non con una percentuale così ampia. Parliamo di 90% non mi interessa, 10% l'ho acquistato o lo acquisterò. E fino adesso siamo a 106 votanti, poi magari aumenteranno, eviterò aggiornati sul mio profilo Instagram che mi invito a seguire. E ragazzi perché secondo voi c'è così tanta diciamo disinteresse verso questo prodotto? Sicuramente come abbiamo detto il prezzo perché è 1500 euro per la versione con gli ultimi visori, 1150, qualcosa del genere per la versione con questi praticamente, questi qua che ho qua davanti che erano con lui. E poi c'è una versione che costa mi sembra intorno ai 570 euro, non disponibile su Amazon però disponibile forse su DJI Italia, solo drone. Ecco quello potrebbe un pochino aver senso e mi attizza un po' l'idea di provarlo perché comunque per chi ha già questi e ha già questo che comunque non è disponibile in nessuna versione però è compatibile con DJI Avatar anche se nessuna confezione lo troviamo all'interno perché all'interno delle confezioni troviamo lui questo in motion control che è compatibile ovviamente anche con lui, infatti io ce l'ho per questo motivo. Quindi l'idea di avere già questi e di avere questo mi attira un po' a provare la versione solo drone. Però questo drone ragazzi capite che è un drone un po' a metà, cioè non è un drone che ci dà quella botta di adrenalina che ci può dare lui e chi mi segue lo sa che lui ragazzi è il mio preferito perché comunque a livello di scarica di adrenalina, di emozioni, è pazzesco utilizzato ovviamente in determinati ambienti. Quelli in cui vado normalmente io, cioè montagna, quindi farlo arrampicare su per le montagne queste location qua lui è pazzesco. Poi ovviamente se lo dovete utilizzare per fare freestyle magari anche no. Quindi ha una sua tipologia e un utilizzo che per quello che mi riguarda è tanta tanta roba. Per quello che vi dicevo se avesse rilasciato un 249 grammi di lui sarebbe stato fantastico. Speriamo che arrivi però non vorrei che DJI ha furia di fare flop con i suoi FPV perché comunque anche lui alla fine ha flopato perché lui è stato venduto tantissimo all'inizio, poi ovviamente la gente l'ha acquistato e si è trovata cacchio ma se non lo uso in acro fa un po' un po' deludente. Allora l'ha venduto, infatti tutti praticamente li hanno venduti o non si sono più visti utilizzi di lui su YouTube perché comunque se non lo si pilota in acro e in situazioni di utilizzo come quello che vi ho appena descritto non ha senso di averlo. E un po' questo avatar è la stessa cosa solo che secondo me è ancora più limitante l'utilizzo che se ne può fare di un drone di questo tipo perché comunque ok vengono dichiarati 18 minuti ma se lo usate come andrebbe usato quindi in manual o in acro chiamiamolo come vogliamo quindi utilizzandolo in maniera seria i 18 minuti ve li scordate perché anche lui se vi ricordate veniva dato per 15 16 minuti adesso non mi ricordo ma utilizzato come lo utilizzo io ne fa 6 7 ma 7 arrancando un po' cioè capite che i minuti sono dati dall'utilizzo utilizzato in normal cioè la versione quella più base quella proprio per i principiantissimi allora sì ma vale la pena comprare un drone per utilizzarlo in quella maniera di spendere 1.500 euro cioè no per 1.500 euro ragazzi va sfruttato per quello che è e quindi siamo sempre lì sono diciamo quelle scelte di DJI che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano per quanto riguarda il mercato non lo so vi aspetto qua sotto voi nei commenti perché un principiante si lo può utilizzare subito perché comunque mette il visore lo accende l'utilizza in normal ma poi in realtà che utilizzo ne fa di questo drone in normal che poi è un drone che pesa sì meno di 500 grammi ma più di 250 quindi ha sempre bisogno di un patentino per essere utilizzato quindi il principiante deve comunque fare già il patentino mentre 249 grammi un principiante non fa il patentino qua deve fare il patentino e deve comunque utilizzare il drone in determinate situazioni perché sì è vero meno di 500 grammi a qualche vantaggio in più rispetto a più di 500 grammi ma niente di che il vero vantaggio abbiamo con i 249 grammi quindi non lo so non riesco a trovargli una collocazione di utilizzo vera se non la curiosità di provarlo e una volta finita la curiosità non lo so anche il discorso di essere venduto solo con questo sì anche questo ragazzi è qualcosa di spettacolare se vogliamo dal punto di vista della concezione perché ragazzi pilotare un drone in quella maniera qua è qualcosa di eccezionale dal punto di vista tecnologico di dove è arrivata la tecnologia è davvero tanta tanta roba da quel punto di vista lì ma poi il wow finisce dopo una settimana 15 giorni con questo finisce il wow ragazzi e quindi bisogna tornare sempre secondo me a questo io questo con lui credo di aver usato due volte tre l'ha usato mia figlia perché lei si divertiva con questo ma pilotare in acro con questo già anche no con questo va bene se lo utilizzi in manual in sport ma in acro tipo un drone così io anche no mentre così anche sì quindi ragazzi non lo so vi aspetto qua sotto nei commenti sul mio canale magari arriverà e come io ho detto la versione quella solo drone perché avendo comunque tutta questa roba sarebbe interessante provarlo perché comunque mi interessa provarlo perché io ragazzi provo davvero tutti i droni li ho provati di ogni forma di ogni prezzo quindi mi piace davvero provarli tutti però devono comunque avere un senso all'interno di quello che è il mio canale il mio diciamo la mia voglia di provare i droni e l'unico che secondo me in questo momento ha senso per me è la versione solo drone ed è questa l'unica versione che potrei provare appunto perché ho tutto questo altrimenti è un drone che non mi sarebbe passato neanche dall'anticamera del cervello di voler provare o di interessarmi a volerlo provare e quindi ragazzi vi aspetto qua sotto tutti voi nei commenti con le vostre opinioni le vostre idee le vostre considerazioni e ditemi anche cosa ne pensate come drone per quello che avete visto sui canali youtube che l'hanno recensito dal punto di vista appunto pratico oltre che dal punto di vista invece virtuale di quello che è stata la mia idea ma solo proprio come prodotto nel mondo dj non tanto per le prestazioni che come io ho detto non ne parlo perché ovviamente non avendolo provato non è giusto parlare di qualcosa che non si è provato a livello diciamo di sensazioni e via dicendo quindi ragazzi detto tutto questo se questo mio video quelle mie considerazioni riguardante questo nuovo drone di casa dj il dj avata o avata quello che è vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler location di dove vado a far volare lui e tutti gli altri droni cioè davvero tante cose arrivano su instagram quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale ovviamente tutti scelti da me ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial novità ciao e al prossimo video